E ancora Fiorentino che ha un po' alzato il baricentro di appropriazione, tocca per Doria, lancio verso Procopio, arriva Marco Voci, solo davanti al portiere, Marco Voci! E ancora lui su una palla che ha tagliato la difesa avversaria, colpo di testa Domenico Fabio per Mellace che recupera, gli ruba palla quasi per un attimo il numero 8 Sciarrone. Però ancora il Montepone sulla destra, Ienco si sovrappone Doria, riceve la palla, entra in aria, mette la palla in mezzo e il tocco è Salvatore Procopio che di giustezza al diciottesimo dopo un'ottima azione di Doria in combinazione con Rocco Ienco, quindi la catena di sinistra. Ed eccoci qua, è l'ultima volta che facciamo un'intervista e noi andiamo a fare lo spogliatoio del Montepone. Mister Pisano l'abbiamo disturbata per tante giornate, la disturbiamo ora nello spogliatoio, è stato un bel campionato, oggi una bella vittoria, però oggi hanno giocato ragazzi del 2003, praticamente potrebbero essere i nostri figli. Sì, non è la prima volta che giocano perché abbiamo già fatto esordire diversi 2003, Procopio, Sanzo, Todaro, hanno giocato già altre partite, oggi ha fatto l'esordio riso e in promozione sono molto contento di tutto quello che abbiamo fatto durante il campionato, bisogna fare soli complimenti a questi ragazzi perché hanno fatto veramente una grandissima stagione. La ritengo una delle migliori perché comunque è un campionato importante come la promozione, qualcuno all'inizio magari ci credeva in difficoltà per una partenza a rilento, invece poi fortunatamente grazie all'impegno di questi ragazzi siamo riusciti a fare un grosso campionato. E quindi merito a tutti, 42 punti, promozione in un girone difficile e stiamo già pensando all'anno prossimo, ci prendiamo un po' di vacanze. No, non è assolutamente il momento per pensare all'anno prossimo, vedremo quello che ci riserverà il futuro tutti quanti, sicuramente era importante concludere e chiudere un cerchio con tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, partendo da alcuni campionati molto difficili che abbiamo fatto, coronati l'anno scorso da una grandissima stagione. Quest'anno la ritengo alla stessa altezza dell'anno scorso perché non era facile assolutamente con un gruppo così, giovane, riuscire a salvarsi con largo anticipo e esprimere comunque secondo me un buon calcio. Quindi sono molto contento e soddisfatto, ci sarà tempo per pensare al prossimo anno. E il mister Massimo Scevola è una di quelle persone che è un piacere intervistare, oltre che per competenze calcistiche, anche per caratteristiche umane. Oggi avete perso ma non avete demeritato, in undici perdendo anche un giocatore per infortunio avete retto, forse tutto merito di cotroneo. Direi che oggi per noi era importante venire a chiudere il campionato in bellezza dopo tanti sacrifici fatti durante l'anno per arrivare alla salvezza tranquilla. La mia contentezza è oggi che ho fatto esordire un 2004 Sciarrone e che è andato anche abbastanza bene. E non si è visto che era 2004, ha giocato con personalità. Effettivamente sì, sono d'accordo con voi. È un ragazzino che credo che lavorando con abbenegazione e con serietà tranquillamente può dire la sua man mano che va avanti in questo calcio, che è sempre più difficile. E la Villa S rimane in promozione, è una città Villa San Giovanni che merita anche altro, però la promozione in questo momento è un ottimo risultato. Ma diciamo che Villa San Giovanni come bacino d'utenza meriterebbe qualcosa in più, ma lei mi insegna che purtroppo oggi il calcio di lettanti è diventato un grosso problema a livello di mantenerlo. Perché si è cambiato tutto nel calcio, perché ormai questi ragazzi che vanno a giocare in promozione in eccellenza chiedono rimborsi e spese che poi alla fine non possono essere mantenuti effettivamente nella società. Bisognerebbe cambiare un po' tutto e rivedere un po' tutto. Grazie e complimenti perché abbiamo notato delle disposizioni tattiche, due linee molto unite, i giocatori che si muovevano, che facevano capire che in panchina c'era chi ci pensava. Grazie, grazie del complimento, è un piacere riceverlo e vi ringrazio e mi fa piacere che gente come voi segue il calcio di lettanti perché abbiamo tutti bisogno di avere delle emittenti importanti e delle persone competenti come voi. Grazie.